televisione indipendente ospiti lo vedete nello scenario nello sfondo di bianco e nero con nicola argesi che da tanti anni fa questo genere di televisione indipendente voglio chiedere secondo te le regionali che le vince posso rispondere 1 x 2 e vediamo chi è una e la nebulosa qua perché adesso in questo momento ci avevano tosi salvini in mezzo salvini che vuole creare un gruppo unito tosi reclama la liga veneta come indipendenza quindi vedo una grande frattura se non si vede se non venisse mai ricomposta quindi dubito che tosi si metta contro zaia se questo dovesse succedere ci servono dei grandi pericoli e dare veramente la porta d'ingresso le chiavi alla sinistra vedo uno scenario un po imbarazzante da qualche allora c'è nel percentuale zaia vince con che percentuale no zaia vince solo no nel senso è il 20 per cento 30 per centi quanto facendo cento al zaia di possibilità quando diamo dove il 50 50 per cento è contento di tosi vincente ma tosi è forte però contro zaia non lo vedo vincente la moretti quanti possibilità di vincere se non vanno d'accordo 50 anche alla moretti se invece se invece si vede un d'accordo tu dici di zaia e tosi e ricombinano beh sicuramente di nuovo zaia ma non certo tosi lo vedo dura la vedo molto dura c'è salvini che sta creando un polo un po moderno oppure tra virgolette antico sta creando questa creando un polo nazionale ultima cosa non la vedo l'ncd dove scommetteresti che sarà zero no dove sarà no non ci sarà proprio ci sarà ma con chi qua in non ho proprio idea guarda non ho proprio una grande confusione poi dopo bisogna vedere chi entrano bisogna anche vedere chi è che entra nell'ncd e anche là è una nebulosa ragazzi lo scopriremo mamma mia dura uno c due